Un gruppo di cittadini nigeriani avrebbe organizzato una sistematica attività di spaccio di sostanze stupefacenti nel periodo compreso fra il 2018 e il 2022 nell'Alto Vicentino. Una complessa indagine ha portato a una cooperazione antidroga dei carabinieri del Comando Provinciale di Vicenza che hanno individuato il sodalizio coordinati dalla Procura della Repubblica Berica che ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Individuati otto nigeriani di età compresa fra i 25 e i 30 anni. Già noti le forze dell'ordine per reati specifici e il reato di spaccio di sostanze stupefacenti. Gruppo attivo nell'ambito del territorio di Montecchio Maggiore. Le indagini svolte dalla locale tenenza hanno permesso di costruire cessioni sin dal 2018. Cessioni che si attuavano presso le piste ciclabili, parchi e in prossimità agli istituti scolastici. Nel corso dell'operazione sono stati individuati 5 appartenenti al gruppo criminale, tutti sottoposti alla misura cautelare e restrittiva e condotti dai carabinieri presso la casa circondariale di Vicenza a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sono state quindi attivate specifiche operazioni di ricerca nei confronti di altri tre soggetti non trovati presso le loro abitazioni durante le perquisizioni e tuttora irreperibili. Nelle attività necessarie alla cattura sono stati impegnati una cinquantina di militari con il supporto di due unità cinofide di Torreglia.